Allora intanto diamo il benvenuto e il buongiorno al senatore Gaspari che ci ha raggiunto, buongiorno. Naturalmente tra un attimo siamo certi che vorrà dire qualcosa a questa platea che aspetta risposte dalla politica. Io mi scuso con il presidente Bufi perché gli ho tolto la parola, però dovevamo farlo per una questione proprio di tempo, quindi gliela restituisco. In realtà è stato invece un colpo di fortuna, a questo punto lo interpreto così, per un motivo molto semplice perché stavo per l'appunto commentando gli interventi prima della senatrice Ricchiuti e poi del senatore Bigino. Perché da entrambi, vorrei che ci fosse chiaro, l'abbiamo udito tutti con le nostre orecchie, da entrambi non sono venuti soltanto degli attestati di stima, di fiducia e di condivisione delle argomentazioni che abbiamo posto, ciascuno dal proprio osservatorio e tutti convergenti nell'unico obiettivo di dare una sistemazione definitiva al tema, alle criticità anche drammatiche della fondazione Nasarco. Ma abbiamo anche ascoltato degli impegni precisi, questi impegni precisi sono stati addirittura, come dire, sono andati persino oltre le nostre aspettative perché noi stiamo proponendo oggi qui, abbiamo fatto a diverso titolo il commissariamento dell'ente e avendolo motivato in presenza dell'insussistenza dei requisiti per gli equilibri di lungo termine e quindi della sostenibilità finanziaria, poi alla fine di erogare le pensioni e qualcuno appunto faceva riferimento al fatto che tutto sommato siamo persino troppo buoni da questo punto di vista. Ecco, diciamo che intanto cominciamo con quello, perché cominciando con quello il commissariamento, come è successo in passato magari diversamente dal passato per quello che riguarda poi gli esiti finali, produce quel meccanismo di modifica che noi auspichiamo. Ma addirittura abbiamo sentito parlare anche di commissioni d'inchiesta. Quindi voglio dire, vorrei che fossimo consapevoli Paolo Righi, Luca Capurro ed io insieme a tutti quanto oggi abbiamo ascoltato, abbiamo preso atto di alcuni impegni forti. Io li interpreto così, così li ho ascoltati e vorrei che qualcuno mi smentisse nel caso in cui abbia ascoltato male. Perché lo dico? Non lo dico in modo ovviamente provocatorio, lo dico al contrario, accogliendo con grande piacere questo posizionamento della politica, che peraltro è stata rappresentata qui con una certa trasversalità per l'appunto. E quindi qual è il nostro impegno però? L'impegno di queste associazioni oggi qui rappresentate? Che il convegno di oggi, questo incontro di oggi, non finisca qui sotto le luci dei riflettori e della cronaca che poi leggeremo stasera o domani, ma che abbia un seguito, che abbia un seguito da parte nostra per la sollecitazione che saremo in grado di fare proprio nei confronti di quella politica che qui si è presa dei precisi impegni nel sostenerci nella nostra battaglia. Questo vorrei significare e questo vorrei condividere con i colleghi presidenti delle associazioni e poi far sapere in ogni caso al presidente Berlusconi che lo incontrerò ben volentieri alla prima occasione utile. Bene, grazie al presidente Bufi.